Vogliamo raccontare l'incrocio tra tech e politica, tra innovazione e relazioni internazionali, tra digitale e regolazione. Per questo nasce Tecnopolisy, con l'obiettivo di creare una discussione su questi tre incroci molto pericolosi. L'Italian Job torna e va in trasferta. Sta per iniziare il viaggio alla scoperta della galassia di Federmanager. Parleremo di economia a 360 gradi, passando per l'attualità fino ad arrivare alla politica. Un modo per fare luce e per comprendere meglio la realtà che ci circonda. Io vi aspetto qui ogni giorno con un argomento nuovo. Grazie a tutti.